Bella ragazzi, sono Pulsar, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video e oggi vedremo come sempre le missioni settimanali della settimana 7 della stagione 8 di Fortnite. E ovviamente vedremo come superarle in maniera più veloce, efficace e semplice possibile e non solo, scopriremo anche dove è situata la stella segreta di questa settimana che ci darà accesso a un livello gratuito di Battle Pass. Ma senza indugi, andiamo subito al video. Prima di andare alle sfide ragazzi, voglio ricordarvi che sono uscite anche le sfide del bottino di Buccanieri, nel caso non le aveste ancora viste, che danno accesso ad un glider, un emote e altre cose che sono molto interessanti, quindi ragazzi non dimenticatevi di farle. Vedo che non sono particolarmente difficili, almeno fino ad oggi, quindi non penso che farò dei video a riguardo, ma ricordatevi di farle, visto che raramente Epic Games si regala delle cose e in questo caso prendiamole fino a che ce le danno. Ma andiamo subito a leggere velocemente le missioni. Infliggi 100 danni agli avversari con un piccone, poi abbiamo una missione a fasi in cui in ogni fase ci viene chiesto di visitare due posti differenti della mappa, poi bisogna visitare tre accampamenti pirati in una singola partita, poi bisogna infliggere danni ai giocatori da sopra, cercare forzieri su sponde del saccheggio o spiagge snob, poi abbiamo una missione in due fasi, infliggi danni ai giocatori da una zipline e infliggi danni ai giocatori su una zipline e infine elimina gli avversari in diversi luoghi indicati. Ma andiamo subito a vederle una a una. Allora oggi proverò a scorrere più velocemente possibile tutte quelle missioni che non hanno tanto da dire o sulle quali non ho tantissimi consigli da dare perché sono abbastanza semplici, in modo da arrivare in fretta a quelle che invece sono più complicate e sulle quali posso aiutarvi di più e portarvi direttamente al loro completamento. Inutile ricordarvi che le modalità a tempo limitato, in particolare la rissa squadra e dominare discoteca, comunque quelle con il respawn, possono aiutarvi tantissimo nel completamento delle missioni quando avete particolari difficoltà a completarle nelle modalità normali. Altra cosa che invece voglio ricordarvi è di attivare sempre il gruppo assistito per farvi aiutare dai vostri compagni di squadra nel completamento delle missioni che o sono più lunghe o vi danno particolari difficoltà e non riuscite a superarle. Andando alla primissima missione, infliggi 100 danni agli avversari con un piccone, ho un metodo semplicissimo e abbastanza veloce per riuscire a completarla senza troppe difficoltà, ossia entrate in una partita di duo o ancora meglio in squadra, anche se non avete degli amici vanno benissimo i compagni casuali che ci dà il gioco, atterrate in dei posti abbastanza popolati, cercate dei nemici che sono a terra oppure atterrateli voi o aspettate che li atterrino i vostri compagni e prendeteli a picconate, in quel caso i danni valgono lo stesso e verranno calcolati nel completamento della missione. Altra cosa che si può fare se non volete andare in squadra è in solo cercare di atterrare dietro a dei nemici che state seguendo da quando vi siete lanciati dal bus se prenderli a picconate appena atterrano, anche se raccoglieranno un'arma e li uccideranno non importa, qualche danno riuscirete a farlo e avanzerete nel completamento di questa missione. Ma il metodo più veloce che vi consiglio è quello che ho appena detto, andate in squadra e picconate i nemici a terra perché valgono anche quelli. Pochissimo da dire anche sulla seconda missione, l'unico consiglio che vi posso dare è cercate dei veicoli, per questo vi ho recuperato la mappa delle sfere che vi ho fatto vedere qualche settimana fa, ma in realtà qualunque veicolo va benissimo, qualunque modalità va bene, in base a come ve la sentite e quella che preferite fatela non vi preoccupate. Andando avanti con le fasi saranno sempre più lontani due posti ma tutte queste missioni sono abbastanza semplici e fattibili, l'importante sarà cercare un veicolo per accorciare i tempi di percorrenza. Sempre con l'aiuto dei veicoli vi consiglio di completare anche la missione successiva, visita tre accampamenti dei pirati in una singola partita e anche in questo caso vi ho recuperato la mappa con tutte le posizioni degli accampamenti dei pirati, eccoli qua. Sceglietene tre, possibilmente vicini tra di loro e visitateli tutti con un veicolo all'interno della stessa partita. La quarta missione è veramente semplicissima, se proprio volete trovare un modo veloce per infliggere dei danni ai giocatori da sopra, andate nella modalità rissa squadre, quando morite atterrate nei posti più alti, sparate, fate piovere proiettili verso il basso, verso i nemici che vedete, qualcuno lo colpirete, qualche danno riuscite a farlo e completerete velocemente questa missione. Se volete fare in altre modalità basterà stare sulle colline, sugli edifici o costruire sopra gli avversari, insomma basta essere ad un livello di altezza superiore a quello dei nostri nemici e ogni danno che faremo varrà nel completamento della missione. E ora abbiamo cerca forzieri sulle sponde del saccheggio o spiagge snob. Anche sulla quinta sfida pochissimo da dire, se proprio avete difficoltà nei primi giorni perché troppa gente atterra in questi posti proprio per via delle sfide, vi consiglio di attendere qualche giorno e in qualunque modalità questi due posti sono entrambi abbastanza poco popolati, quindi non troverete gente, non avrete problemi a raccogliere i forzieri che servono per completare questa missione. In particolare quella che vi consiglio se non volete trovare gente è spiagge snob. Prima di passare alla sesta sfida che è quella che richiede un po' più di considerazione, vediamo subito l'ultima che è quella di eliminare 5 avversari in diversi luoghi indicati. Vi ricordo che i luoghi indicati sono quelli con il nome scritto in bianco all'interno della mappa, quindi premete M, vedete quali sono i nomi dei posti scritti in bianco, lì dentro dovrete eliminare un avversario in 5 posti diversi. Anche questa è una missione che un giocatore medio che gioca non dovrebbe avere difficoltà a superare e non solo, dovrebbe anche superarla senza preoccuparsene, quindi vi consiglio di concentrarvi soprattutto su altre sfide e non proprio su questa perché la completerete quasi senza accorgevene. Ovviamente le 5 eliminazioni non sono da fare all'interno della stessa partita, ma possono essere fatte in partite diverse con calma, per questo dico che la farete senza accorgevene. Ed eccoci arrivati alla sesta sfida che sicuramente è la più complicata di questa settimana, cioè infliggere danni ai giocatori da una zipline e la seconda fase infliggere danni ai giocatori sopra una zipline. Quindi nel primo caso dovrete essere voi quelli sulla zipline a infliggere danni ai giocatori al di sotto e nel secondo caso dovrete essere voi da sotto a infliggere danni ai giocatori attaccati a una zipline sopra. In primo luogo vi ricordo che facendo questa missione infliggerete danni da sopra agli avversari, quasi sicuramente, quindi completerete anche parte dell'altra missione. In più questo è il genere di missioni che vi consiglio di fare il prima possibile perché ci saranno molte persone attorno alle zipline in questi giorni cercando di completare le missioni, soprattutto nel primo weekend dopo il rilascio di questa settimana 7. Quindi se proprio volete concentrarvi su una missione questa è sicuramente quella che vi consiglio. In più ho selezionato alcuni posti da farvi vedere per quelle che secondo me sono le zipline migliori per l'esecuzione di questa missione. Andiamo subito a vederle. Le prime sono tutte le zipline intorno a picco polare e rampe ghiacciate. Ovviamente quelle più alte sono le migliori perché vi danno più visuale e vi permettono di colpire più facilmente i nemici. Altra cosa che vi voglio ricordare è che da sopra le zipline è possibile cambiare direzione semplicemente premendo i tasti direzionali. Quindi potrete aumentare la permanenza sopra queste zipline senza doverci risalire e soprattutto rendere più difficile per gli avversari colpirvi. Queste zipline della zona polare sono molto funzionali ma allo stesso tempo non è una zona troppo popolata quindi vi consiglio di provare queste solo se il bus passa subito qua sopra. Invece quelle che ritengo essere le zipline migliori per il completamento di questa missione sono due. La prima quella che va dal vecchio castello sopra montagnole maledette fino alla zona con lo spawn delle sfere sopra parco pacifico. In particolare vi consiglio di guardare la zona di parco pacifico che nelle prime fasi della partita è molto popolata. Magari prendete un'arma anche solo una R dal castello e poi lanciatevi su questa zipline. Dopodiché la seconda zipline che ritengo essere perfetta, probabilmente la migliore in assoluto per questa missione è quella che invece va dalla zona di spawn delle sfere sopra parco pacifico fino alla collinetta accanto che è questa qua che state vedendo in questo momento e ci dà una bellissima visuale su parco pacifico e probabilmente ci renderà abbastanza semplice il completamento di questa missione. A questo punto non ci resta che andare a vedere, visto che abbiamo completato tutte le missioni dove è situata la stella segreta di questa settimana 7. Vi ricordo che per vederla comparire dovrete aver completato tutte le missioni di 7 settimane diverse quindi se state guardando questo video nella settima settimana tutte le missioni uscite nella stagione 8 fino a oggi, tutte e 7 le settimane. La location dovreste conoscerla perché se avete completato un'altra missione avete già visitato il coniglio di legno e probabilmente la stella è proprio qua sopra in questa parte della schiena del coniglio che state vedendo in questo momento se non è lì è qua intorno comunque, sempre sopra il coniglio può essere su queste piramidi oppure sulla schiena o sulla testa, la zona insomma è questa cercatela un attimo se non è nel punto della schiena che vi ho fatto vedere subito all'inizio. Nel caso non sappiate dove si trova il coniglio, ecco il punto esatto sulla mappa. E anche per questa settimana siamo arrivati alla fine prima di salutarvi voglio salutare Claudio Zancaro che nella settimana 5 mi ha chiesto di salutarlo e voglio salutare anche Marco Martin che mi sta commentando tutti gli ultimi video tra l'altro mi ha proposto un video di FAQ, Frequently Asked Questions in cui rispondo alle domande quindi se ne avete ragazzi non vi dimenticate di farle qua sotto nei commenti oltre che dirmi cosa ne pensate del video. Vi ricordo che faccio anche altri tipi di video quindi vi invito a iscrivervi al canale andare a vedere anche gli altri se vi possono interessare e in caso contrario vi invito lo stesso a iscrivervi perché la prossima settimana saremo di nuovo qua a vedere le missioni della settimana 8 e come farle il più velocemente ed efficacemente possibile per il resto ci vediamo al prossimo video lasciate un like se anche questo vi è stato utile da Pulsar è tutto, ciao ragazzi, bella! iscriviti al canale